ciao a tutti benvenuti nel mio canale youtube oggi andremo a fare il cavolfiore modo indiano servito con salsa di yogurt e piadine integrale che è molto buone da mangiare e si può servire tranquillamente anche con il riso semplice quindi senza perdere tanto tempo andiamo a vedere veloce veloce gli ingredienti e quello che ci serve andiamo a vedere adesso gli ingredienti ci serve e mezzo cavolfiore ho preso due patate medie prezzemolo un chicchi di aglio tagliato mezza cipolla e un gambo di cavolfiore quello più soffice e dobbiamo tagliare in questo modo anche le patate patate a cubetti che dobbiamo tagliare grazie a tutti 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 grazie a tutti